l'8025 due album con francobolli noviosati raccolti in cartoncini a loro volta in due album si tratta di una miscellanea come si può vedere dove c'è di tutto sono anche delle marche da bollo cavalline stelle la storia primo volume, andiamo al secondo, anche qui ci sono le marche da bollo, cavallino e stelle. Queste sono le marche da bollo. Zara, sovrastampati i vari delle colonie e delle occupazioni, qua c'è qualche pubblicitario. Alcune sovrastampe secondo me non vanno bene. 75 euro, già i due album, i fogli e tutti i cartoncini che ci sono qua. E comunque di cosa ce ne sono. Se volete altri video e informazioni scrivete a filateli a chiocciola.